Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, oggi venerdì 20 maggio si venera San Bernardino da Siena. San Bernardino nacque a Massa Marittima l'8 settembre 1380, non aveva ancora tre anni quando rimase orfano di madre e a sei anche di padre. Discepolo di San Francesco d'Assisi, la sua predicazione fu così incisiva da essere sprone di forte rinnovamento per la Chiesa Cattolica Italiana e per tutto il movimento francescano. Nelle sue prediche insisteva sulla devozione al Santissimo nome di Gesù. Si ritiene che grazie a lui il cristogramma IHS sia entrato nell'uso iconografico comune e sia divenuto familiare alla gente. Infatti ai fedeli che ascoltavano le sue prediche venivano fatte baciare delle tavolette di legno incise con il monogramma sormontato da una croce e attorniato da un sole. Nel 1425 predicò tutti i giorni per sette settimane nella città di Siena. Gli ambienti degli usurai e quello delle case da gioco gli si dimostrarono particolarmente ostili, tanto da far internare contro di lui un processo per eresia sostenuto a Roma nel 1427. A più riprese rifiutò la carica di vescovo per dedicarsi appieno alla sua vocazione di predicatore e missionario. Nel 1444, pur essendo molto malato, suo invito del vescovo, amico Agnifili, si recò all'Aquila anche per tentare di riconciliare due fazioni che in città si affrontavano apertamente. Morì il 20 maggio all'Aquila. Si racconta che la bara continuò a gocciolare sangue fino a quando le due fazioni non si furono riappacificate. Il corpo è conservato all'Aquila, nella basilica a lui dedicata. Nella città il culto si manifesta soprattutto con la diffusissima presenza del monogramma sulle porte degli edifici. Dal 1958, ogni anno, il 20 maggio, una scuola della diocesi di Siena porta in dono l'olio per tenere accesa la lanterna tutto l'anno. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con i quotidiani nazionali. Iniziamo con la Repubblica che apre con la strage in volo, Parigi-Cairo, una bomba e terrorismo sull'aereo dell'Egipteir. 66 vittime doppia virata e picchiata improvvisa tra i morti 15 francesi e tre bambini. Hollande torna l'incubo della IAD. E poi la vita contro di Pannella, il guerriero dei diritti. Marco Pannella si è spento nella giornata di ieri. Raggi avanti a Roma, Milano in testa, sala nella corsa alle città di centrosinistra, regge. Passiamo al Corriere della Sera. In apertura quindi la scomparsa di Pannella, la spinta ai diritti che ha cambiato l'Italia. Così titola il Corriere della Sera, si era fatto sedare prima del trasporto in clinica. E la tragedia aereo caduto, ipotesi attentato, ma è mistero sulle immagini di un'esplosione a bordo. Bimbi tra le 66 vittime. Il volo, Egypt Air da Parigi al Cairo, ha fatto due virate improvvise indagine sui passeggeri. Nel taglio basso, 2000 euro per gli ovuli alla clinica, parla Lusi, modella di Messina. Così sono scappata dalla matrice di Antinori. Il tempo, ecco il titolo dedicato a Pannella. Addio a Pannella, se ne va l'ultimo gigante della politica italiana. Ha combattuto grandi battaglie, cambiato e diviso. Il nostro paese, Angelo e Demone. Così il titolo, il controcanto, l'istrione radicale che predicava il male. E poi la lettera, la passione di Marco per Andreotti e Cossiga. Nel taglio basso, invece, vediamo Mori assolto, la farsa è finita. PM diabolici, altro schiaffo alla trattativa. E la bomba sul volo da Parigi al Cairo. Sono morti in 66 e giallo sulla strage SOS della CIA. Il fatto quotidiano, addio a Pannella, radicale libero a tutto, battaglie e provocazioni. È morto il Guassa Feste, portò i diritti civili in una Italia che non li conosceva. Propaganda, vediamo Renzi, 30 miliardi di promesse. Torna il condono sui soldi esteri, tasse e pensioni. Annunci in vista di amministrative e referendum. E la pista a terrorismo finito in mare, 66 passeggeri, precipita il volo tra Parigi e il Cairo. L'incubo di una bomba a bordo. Vediamo in breve, arrestato Proietti, l'uomo della casa di Tremonti, e i miliardi a Etruria. La grande rete è ancora la Libia, i generali è fin meccanica, ma la Pinotti balla. Passiamo a venire, fermiamo la tratta e lo sfruttamento. Il fatto, l'appello di Papa Francesco, che dichiara che bisogna essere voce di chi non può gridare. Buona idea nel PD, bonus unico ai figli, da 150 euro al mese. Poi la fotonotizia, aereo caduto, una bomba, l'ipotesi che fa terrore. Il giornale, il disastro, appunto sul Parigi Cairo, le IAD degli aerei, un Airbus egiziano, precipita a largo di Creta, 66 vittime, l'intelligence segue la pista del terrorismo, forse una bomba, dopo l'11 settembre volare. Torna a essere un incubo. E poi, in centro pagina, l'addio a pannella, l'ultimo samurai della libertà, una vita radicale. Ascoltato, ma poco capito, il veggente ci lascia più miopi. E le battaglie e l'eredità, divorzio, partiti e giustizia, mancherà pure ai suoi nemici. Libero, perché ci tagliano le pensioni, le rapine dell'Inps, così in apertura i contributi pagati dai lavoratori sono investiti in un immenso patrimonio immobiliare, ma invece di rendere la gestione delle case in perdita, perché gli appartamenti sono vuoti, occupati abusivamente o affittati sotto prezzo. E le verità di Libero, i complotti del fatto, su Renzi, il capo e il referendum. E poi la morte di Pannella, scomodo, invadente, è il leader più importante degli ultimi 50 anni. La bomba sull'aereo da Parigi, volare è un azzardo per la CIA e Putin, è terrorismo, 66 morti egiziani e francesi. E nel taglio basso l'ex vice presidente del CISEM grosso, perché la prova del DNA non inchioda bossetti ed ancora immigrati nelle carceri, l'accoglienza dell'Olanda dentro 60.000 profughi. Il manifesto, così apre su Pannella, il disobbediente. Vediamo ancora l'intervista, spadaccia. Vi racconto Marco, il mio leader, senza di lui il partito radicale non sarebbe mai nato. Ed ancora, dalla battaglia referendaria sul divorzio all'opposizione alle leggi di emergenza, le lotte antiproibizioniste. Andrea Orlando, scomodo ma necessario, un utile intransigenza per non rischiare di accontentarsi. Dal manifesto al mattino, su Marco Pannella, il paladino dei diritti, una lunga battaglia tra referendum e scioperi della fame, la sua esperienza a Napoli. E poi l'aereo che esplode, l'incubo ISIS, il volo Parigi-Cairo precipita nel mare Egeo, i satelliti USA, è stata una bomba. Il caso Fortuna e Titossoli sul terrazzo, la compagna del brutto testa il suicidio. E le barriere delle bambine costrette a rivivere l'orrore. Ed ancora, nel taglio basso, Verdini, i miei voti decisivi in campagna, in campagna, scusate, poi il reportage tra gli amici di Sarri, resterà a Napoli. L'unità, l'unità che apre con Ciao Marco, libero e rivoluzionario, e poi nel taglio basso, incubo attentato sull'aereo Egypt Air, precipitato, poi migliaia di pensionati in piazza, 80 euro anche a noi, e poi ecco come il governo taglierà l'IRPEF alle famiglie all'interno dell'unità. Ora passiamo al messaggero, vediamo in apertura la prima pagina che apre con la strage nei cieli in cubo bomba, scompare nel Mediterraneo il volo Egypt Air da Parigi diretto al Cairo, 66 persone a bordo, il terrorismo, la pista più probabile, il giallo delle rusche virate prima di perdere i contatti. E in centro pagina la fotonotizia, ecco Marco Pannella, Dio a Pannella, guerriero dei diritti, le sue battaglie hanno cambiato, l'Italia, il leader radicale si è spento a 86 anni, il cordoglio di tutta la politica. In breve Egitto e Francia, puniti due paesi con un colpo solo, scali sotto accusa, aeroporti, buchi nella sicurezza. E poi il sondaggio sui partiti, sale il PD, cala il Movimento 5 Stelle, a Roma sfida aperta. E ancora su Pannella, vediamo visionario e pragmatico, integralista di libertà e laicità, e poi le intuizioni ed eccessi, referendum come picconi. Entriamo all'interno del messaggero, vediamo in primo piano, quindi, la strage precipita in mare, il volo Egypt Air da Parigi al Cairo, è un attentato, a bordo 66 persone, compresi tre agenti di sicurezza egiziani, strane virate, e poi la picchiata ipotesi bomba per l'intelligence. Nel taglio basso, il caso finisce nel mirino, l'asse Holland al Sisi, colpiti per raid in Siria, e accordi sulla Libia. Bomba kamikaze o guasto, i misteri dell'aereo maledetto, l'ipotesi, esplosione a bordo, si indaga anche sugli scali di Asmara e Tunisi, per far precipitare l'Airbus, sarebbe bastato meno di un etto di esplosivo. E ne è ancora la crisi, vediamo dal 2010 l'Egitto ha perso quasi 6 milioni di turisti. Ancora vediamo in primo piano, quindi l'allarme, iadisti negli aeroporti, un incubo per l'Europa, tra i lavoratori dello scalo di Parigi, erano stati scoperti ben 57 simpatizzanti dell'Isis, l'esperto di sicurezza, un addetto ai bagagli, può tranquillamente piazzare una bomba, ha dichiarato. Ed ancora vediamo le storie, l'hostess che aveva previsto la shagura, i bambini imbarcati all'ultimo momento, una coppia con 5 figli stava perdendo l'aereo, una donna li aiuta a salire. Ancora vediamo la pagina dedicata a Marco Pannella, Dio a Pannella, una vita spesa per i diritti civili, così titola il messaggero, il leader radicale, si è spento ieri mattina, 86 anni, un'esistenza all'insegna delle lotte, di libertà e dei referendum, aveva messo il proprio corpo al centro della battaglia politica. Porta in Parlamento Sciascia ed Enzo Tortora, ma anche personaggi come Toni Negri, il caso senatore a vita, l'occasione perduta, e quella petizione di 35 parlamentari. Nonostante il pressing trasversale, né Ciampi né Napolitano, diedero il benestare al laticlavio. Negli anni 60 ancora intercetta all'inflatto liberatorio del 68, tenendosi però ben lontano dalla violenza. Ed ancora l'ultimo grido, non mi ricovero, lasciatemi a casa martedì, il tentativo di portarlo in clinica, lui blocca l'auto e scappa poi l'ambulanza. Le campagne, vediamo storiche, da divorzio e aborto, a fame nel mondo, è giustizia, è il cordoglio del Vaticano, uniti dalla lotta a favore dei detenuti. I radicali riuniti intorno alla Salma, oggi Camera Ardente a Montecitorio, domani la cerimonia a Piazza Navona, e poi ricordiamo, domenica sarà a Teramo, perché il sindaco Maurizio Brucchi lo accoglierà all'interno della Sala Consiliare del Comune. Camera Ardente che sarà aperta fino alle ore 15 e poi il trasporto del corpo fino al cimitero di Teramo, il cimitero di Cartecchio. Su questo articolo ci fermiamo proprio per vedere il nostro ricordo di Marco Pannella e poi a seguire le interviste, anche le dichiarazioni, il cordoglio del primo cittadino di Teramo e del presidente della regione Abruzzo, d'Alfonso. Iniziamo con il ricordo di Marco Pannella. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria della sua Teramo e anche se non era riuscito ad essere presente alla cerimonia, aveva provato grande gioia ed emozione. Marco Pannella, scomparso oggi a Roma all'età di 86 anni dopo una lunga malattia, era molto legato alla sua terra che l'anno scorso gli ha conferito la laurea honoris causa all'Università di Teramo. Capopartito, difensore degli emarginati, censore della partitocrazia, alfiere dei diritti individuali ed inventore della disobbedienza civile. Pannella non è mai stato banale nei modi e nel linguaggio, sia verbale che del corpo. Restano celebri i suoi scioperi della fame e della sete, le sue battaglie per l'aborto, per la legalizzazione delle droghe leggere, per il divorzio, battaglie portate avanti attraverso una straordinaria capacità oratoria che riusciva quasi ad ipnotizzare chi lo ascoltava. Pannella, una vita dedicata interamente alla sua creatura, il partito radicale. La sede di Torre Argentina diventa crocevia di giovani pronti ad andare in carcere per rinitenza alla leva, di femministe, protoambientalisti, gay, coltivatori di cannabis. Pannella è stato un liberale, un crociano e un anticomunista, ma era anche un laico e un anticlericale, anche se per il suo impegno civile si è guadagnato l'apprezzamento di Papa Francesco, che gli telefonò durante uno dei suoi ultimi digiuni cominciato quando era già stato colpito dalla malattia con il pontefice che gli chiese di non andare fino in fondo. Negli ultimi anni è circolata l'idea di assegnargli il seggio di senatore a vita come riconoscimento alla lunga carriera politica. Lui era perplesso, ma in fondo lo avrebbe gadito. Il cordoio da parte del primo cittadino di Teramo che neanche una settimana fa lo ha incontrato in occasione della consegna della cittadinanza onoraria e quindi della chiave della città. Sì, davvero grande commozione e grande emozione per la scomparsa di un uomo che ha fatto tanto direi per il nostro paese per la nostra città un teramano cittadino onorario insomma davvero in questi casi le parole sono troppe o sono troppo poche perché è sempre difficile esprimere quello che si prova però davvero insomma provo grande dispiacere grande dispiacere per quello per quello che è accaduto seppure consapevole che le condizioni di Marco Pannella non erano delle migliori perché già la settimana scorsa erano evidenti i segni della malattia su Marco però lui aveva comunque anche in quel momento seppure di difficoltà mantenuto una lucidità impressionante e aveva avuto anche la forza di fare qualche battuta quella delle chiavi false lui sapeva chi le aveva falsificate una persona che ha fatto tanto dicevo nel bene o nel male perché tanti lo ricordano come quello che ha fatto come il Pannella che ha fatto la battaglia per il lotto zero tanti lo ricordano invece per le battaglie che ha fatto per i detenuti per l'aborto insomma voglio dire non tocca a me sicuramente ricordare tutto quello che ha fatto Marco Pannella però la città così come l'ha voluto onorare con la cittadinanza onoraria sarà vicino a Marco Pannella nel giorno del suo addio verrà proclamato il lutto cittadino e saremo pronti ad accogliere Marco Pannella così come merita di essere accolto e sono certo che la città risponderà come ha sempre fatto e quindi davvero grande grande emozione che credo di esprimere io come sindaco ma credo che quello che io sto dicendo e sto pensando lo esprime tutta la città di Teramo c'era la garanzia che anche dopo di me anche se il dopo dovesse dire la storia radicale di grande civiltà umana non solo italiana prosegua Presidente due parole sulla scomparsa di Marco Pannella sono molto addolorato la storia di formazione di Pannella non è la storia di formazione della mia esperienza politica però riconosco con piacere che lui è stato un gigante della democrazia della libertà e dei diritti ha insegnato all'Italia e all'Europa il pensiero laico ha insegnato come evolvono le garanzie dei sistemi civili delle democrazie ha conferito alla politica italiana una dimensione di internazionalità e di transnazionalità ha posto il tema del finanziamento pubblico dei partiti come il tumore della politica e della democrazia credo che sia un uomo che rappresenta un punto fermo della grandezza di Teramo dell'Abruzzo in Italia e dell'Italia nel mondo che si interroga e riflette e ancora sulla scomparsa di Marco Pannella vediamo dal messaggero il dolore della Bonino avrebbe meritato di più una vita fianco a fianco fino allo strappo della scorsa estate Emma vola alto nel giorno del lutto lei ricorda era grande in tutto anche nelle debolezze e l'intervista vediamo Cicciolino Marco mi difese le radicali non mi volevano andai al partito per conoscerlo dichiara Ilona Staller un minuto dopo mi propose di candidarmi anche se dicevano che ero una spia e un po' era vero vediamo ancora il comunicatore geniale che frantumava i tabù non un sognatore un guru o un profeta ma un lucido creatore della neopolitica ha inventato temi digiunato rotto schemi per difendere i diritti e avviare le riforme mai banale e prevedibile ha sempre messo la faccia sulle battaglie in cui credeva ed ora ancora per su Marco il personaggio da Pasolini a Craxi e Montale l'album degli impannellati nella vita di Marco figure di spessore passanti della storia il rapporto con Cossiga di quelli di sinistra diceva mi vogliono bene mi impiccherebbero con amore e poi ancora l'eredità e il futuro della radio e il testamento partito a rischio caos un grande leader non lascia eredi ma questa linea ora potrebbe pesare sulla gestione del patrimonio e poi l'intervista della vedova la sua leadership la leadership psicofisica Cosimi licenziai per seguirlo il ricordo del sottosegretario agli esteri uno dei cosiddetti Pannella Boys non vedo eredi ha dichiarato e con questa pagina l'ultima dedicata appunto dal messaggero a Marco Pannella ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo Giovanni buongiorno buongiorno Elisa buongiorno a te e a tutti i telespettatori buongiorno Giovanni allora quali aggiornamenti piove da due giorni questo è sicuro poi previsioni eh sì eh sì purtroppo siamo interessati da una perturbazione proveniente dalle isole britanniche che nella giornata di ieri ha favorito un intenso deciso peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana dove ci sono stati state frequenti manifestazioni temporalesche anche di forte intensità e mentre nella giornata odierna il peggioramento si estenderà si sposterà verso le regioni centro-meridionali di conseguenza sulla nostra regione il tempo continuerà ad essere ehm instabile caratterizzato da una novolosità piuttosto compatta sul settore centro-orientale quindi lungo la fascia colinare e costiera dove sono previste delle precipitazioni generalmente deboli ma localmente eh anche eh di moderata intensità non si escludono manifestazioni temporalesche i fenomeni saranno meno frequenti sul settore occidentale sulla Massica e nell'Aquilano dove comunque nel corso del pomeriggio potrebbero formarsi degli addensamenti più consistenti non si escludono delle manifestazioni temporalesche la perturbazione tenderà gradualmente a spostarsi verso le restanti regioni meridionali di conseguenza a partire da stasera assisteremo un lento e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche miglioramento che mi avviso avverrà però non prima della serata o nel corso della nottata perché insomma lo spostamento sarà piuttosto lento di questa diciamo questa perturbazione però ecco c'è una buona notizia che riguarda soprattutto il tempo previsto nel fine settimana perché se da un lato adesso abbiamo temperature al di sotto delle medie stagionali tra l'altro potrebbe cadere la neve sui nostri rilievi al di sopra dei 1700-1900 metri a partire da domani tornerà il bel tempo il bel tempo che ci accompagnerà fortunatamente nel corso del fine settimana perché è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione anche se il miglioramento sarà temporaneo però il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo tempo stabile localmente caratterizzato ovviamente da qualche addensamento pomeridiano soprattutto sulle zone montuose ma ovviamente con l'alta pressione tornano a salire le temperature pian piano anche se Elisa purtroppo il miglioramento sarà temporaneo poiché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione una nuova perturbazione atlantica sempre destinata a raggiungere la nostra penisola proprio nella giornata di lunedì probabilmente avremo sia la giornata di lunedì che martedì caratterizzata caratterizzata da rovesci e manifestazioni temporalesche ultima notizia da segnalare riguarda la possibile tendenza per quel che riguarda la metà della prossima settimana da metà della prossima settimana quando si è confermata la notizia vede la rimonta di una vasta area di alta pressione di matrice nord africana su gran parte della nostra penisola e se dovesse arrivare questa figura di alta pressione insomma avremo un clima decisamente estivo perché l'alta pressione africana favorirà non solo la stabilità atmosferica ma anche un deciso aumento delle temperature ma ovviamente di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti Elisa grazie grazie Giovanni ti auguro buon lavoro e soprattutto una buona giornata grazie Elisa una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure attraverso il profilo personale di Giovanni De Palma potete così postare commenti porre domande essere quindi aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6 passiamo alle notizie regionali con il quotidiano dell'Abruzzo il centro vediamo la pagina dedicata a Pescara in apertura l'addio a Pannella grande abruzzese l'Italia si commuove se ne va un pezzo di storia con le sue mille battaglie nelle cronache vediamo tumori arriva il robot che corregge il chirurgo cadavere di un uomo ripescato in mare a Pescara la morte risale a un anno fa in Francavilla invece paura Francavilla cassiera della Conad minacciata con pistola meno di vieti nel mare di Pescara restano tre i punti non balneabili ma la situazione sta migliorando ed ora la prima pagina dedicata invece a Chieti Lanciano e Basto vediamo in apertura il titolo l'addio a pannella grande abruzzese e poi nelle cronache asfaltature elettorali esplode la polemica in vediamo Lanciano quindi Lanciano verso il voto e poi in Basto rubati una Porsche ventricina olio e vino ladri nell'alto va stese in Chieti il cancello cade addosso a una bimba salva per miracolo e poi ancora Asl tagliati i farmaci per 11 milioni Chieti il manager flacco inflessibile spendiamo troppo in sei ospedali ed ora la pagina dedicata alla provincia di Teramo vediamo in apertura l'addio a pannella grande teramano l'Italia si commuove e se ne va un pezzo di storia con le sue mille battaglie nelle cronache bancarotta assolti di Bernardo e altri cinque in Pineto cartellini la finanza fa il blitz in municipio il controllo sui furbetti appunto dei cartellini in Tortoreto si dimettono in nove il sindaco Ricchi a casa arriva il commissario e sulla morte di Marco Pannella torniamo proclamato il lutto cittadino a Teramo grazie a Scucci Marra ricorda con lui una stagione d'oro per la città ed ora la prima pagina invece del centro dedicata all'Aquila Vezzano e Sulmona vediamo in apertura addio a Pannella grande abruzzese l'Italia si commuove e come detto prima se ne va un pezzo di storia con lui con le sue mille battaglie in l'Aquila addio a Iacovitti re di Campo Felice in Avezzano galleria commerciale alle scuole Corradini in Sulmona risarciti gli infermieri che lavorano troppo molesta una bimba condannato all'Aquila tre anni e mezzo di carcere inflitti dal tribunale a un negoziante ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo in apertura la prima pagina della città sicuramente dedicata a Marco Pannella eccoci il cordoglio ieri è morto Marco Pannella il terramano più famoso del mondo addio vecchio leone all'interno vediamo la politica e il lutto muore Pannella leone radicale e gigante dei diritti civili la casa di Roma negli ultimi mesi nella manzarda di Pannella c'era un via vai di amici e cariche istituzionali per portargli i saluti le sue battaglie civili una vita passata in trincea a combattere per tutti e la città riporta anche le date della vita appunto passata a combattere di Marco Pannella poi ancora le fotonotizie poi la malattia Pannella era malato da tempo e non lo aveva mai nascosto mercoledì le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente ed è stato trasferito in ospedale e morto alle 14 ancora una vita in trincea Pannella non lascia eredi ma un'eredità diritti molte delle conquiste civili di questo paese sono passate dalla protesta di Marco Pannella e dalle sue battaglie civili lo vediamo nelle foto appunto la foto pubblicata ieri dai radicali per rendere omaggio a Pannella la prima e poi con Ilona Staller appunto in una delle sue apparizioni shock in tv e poi Pannella e la Berardini vediamo ancora che regalano piantine di marihuana contro il proibizionismo Pannella compare imbavagliato in tv appunto contro il popolo e poi con Emma Bonino fu spesso odio e amore sono abruzzese molto abruzzese una razza di lupi Francesco De Gregori gli dedica una canzone il signor Uder è un galantuomo sempre ispirato dal sole con due pistole cariche a salve e un canestro pieno di parole e che fosse un bandito negare non si può vediamo ancora un pensiero per Pannella su facebook da Luciano D'Amico appunto Antonio Del Giudice Stefano Cianciotta Arturo Valiante Enzo Di Salvatore Marcello Maranella Maurizio Cerbo e Alexian Santino Spinelli e Antimo Amore andiamo ancora avanti ritorno a Teramo vediamo quindi proclamato il lutto cittadino camera ardente in municipio la sepoltura a Giacinto Pannella detto Marco sarà tumulato nella cappella di famiglia al cimitero di Cartecchio dopo l'arrivo a Teramo protagonista della politica ma sempre lontano dal potere e qui le foto appunto di quando venne a Teramo con Paolo Tancredi e gli amici radicali a Grand'Italia Pannella poi in consiglio regionale riceve la medaglia aprutio in 2014 poi il sindaco Brucchi gli consegna le chiavi della città di Teramo questo è accaduto soltanto una settimana fa e poi con Luciano D'Amico e durante una trasmissione dove rivela di avere un figlio forse uno e mezzo andiamo ancora avanti passiamo la pagina dedicata alla regione vediamo Tonina Abruzzo per il ticket sul soccorso Alpino il campione di sci promuove la campagna di sicurezza in montagna della regione Abruzzo forze dell'ordine carabinieri il comando Molise sarà accorpato con l'Abruzzo per la nascita di una nuova legione giudiziaria tangente iniziato il processo a De Fanis l'ex assessore regionale accusato di corruzione agenzia De Manio vediamo l'ex manicomio non è più in vendita inserito per errore nell'elenco dei beni alienabili andiamo ancora avanti la crisi in comune di Dalmazio ribadisce azzeramento di giunta ieri l'incontro tra il sindaco e la lista civica poi la riunione dei gattiani in vista del tavolo politico operazione di polizia arrestato a colle atterrato con 50 grammi di hashish Teramo apre il laboratorio della giustizia università magistrati avvocati domani a confronto in vista della riforma ancora giudiziaria revisioni facili in aula parla l'ex direttore della motorizzazione ancora su Teramo caleidoscopio aiuterà i malati di alzheimer l'associazione fondata da 5 professioniste aggiungerà un servizio in più al csv di sant'atto ed ancora provincia un novello 5 stelle per castellalto verso il voto il candidato pentastellato non si fa illusioni sul risultato ma è pronto a dare il suo contributo giudiziaria Tortoreto intascava i soldi delle slot machine condannata a tre anni di reclusione la 43enne di Tortoreto Olga la pietra colpevole in primo grado del reato di peculato dovrà risarcire 390 mila euro Chiavetta presenta la sua squadra con bellante bene comune tanti ex sindaci assessori e candidati e new entry bellante al voto stasera pizza 5 stelle evento grillino da papam e poi ancora ieri mattina gli artificieri fanno brillare la bomba da giardino di Montorio il prefetto scioglie il consiglio di Tortoreto già nominato il commissario sarà il dottor Francesco Tarricone l'ex sindaco questa mattina terrà una conferenza da stampa al Sayonara per tornare sul caso del dimissionamento al Badriatica niente bandiera blu impegno costante sulla qualità delle acque di balneazione Val Vibrata gli operatori turistici criticano il nuovo ponte sul Vibrata il nuovo progetto a doppia campata creerà problemi ambientali alla foce e ancora a Giulianova a Cattoni commercianti sotto assedio l'ordinanza di divieto c'è ma non c'è modo di farla rispettare tra chi chiede la carità e chi vende merce abusiva tra le vie del fastidi continui a clienti e passanti e sempre a Giulianova al via il meeting art alla piccola opera e tra gli eventi di maggio dei libri Giuliesi inizia oggi sempre a Giulianova le vongolare Giuliesi hanno ripreso a pescare concluso il periodo di fermo volontario degli equipaggi per consentire il ripopolamento e Pavone inizia il tour nelle frazioni a Roseto 14 appuntamenti prima del comizio finale in Piazza Ponno sempre a Roseto e Rosetano Pellegrini colonnello nei corpi sanitari internazionali il degrado negli spazi pubblici della scuola di Campo a Mare Pineto entro un mese i lavori tra Borgo Santa Maria e Casello a 14 la provincia sistemerà l'asfalto nello stesso tratto in cui il comune realizza la ciclabile ancora vediamo economia in città sovrindebitamento e legge salva suicidi 2 nella legge 3 2012 il legislatore ha indicato le vie per il contribuente che vuole liberarsi dai debiti ed ora torniamo al messaggero vediamo all'interno la prima pagina dedicata all'Abruzzo ciao Marco sei stato un guerriero così l'apertura la morte di Pannella domenica a terra molutto cittadino camera ardente poi tumulazione il blitz a casa gli aneddoti ricordi degli amici la politica in coro un combattente vero il racconto che lacrime per gli applausi in carcere ed ancora vediamo la task force mare luci e ombre pescare avanti piano migliora Giulianova veleni e batteri i dati dell'arta fanno sapere nel recupero della balneabilità e dopo gli strali la cena della pace con Gaspari l'avvocato Alfonso De Virgilis presente alla lontana piange tratteggia quadro lirico dell'orso abruzzese andiamo ancora avanti vediamo la Zingariello sarà testimone dell'accusa contro De Fanis parte il processo per il caso delle tangenti nella cultura regionale nella ristretta cerchia dei leader irreplicabili ed ancora vediamo Gaspari le virtù e i sigari Marco una rosa nel deserto commozione in città per la scomparsa del leader radicale a Roma aveva 86 anni domenica lutto cittadino il feretro sarà in comune fino alle 13 e poi la tumulazione fino alle 15 scusate il braccio destro Piansi in carcere per quegli applausi indimenticabili questa la testimonianza di Riccardo Chiavaroli con lui 27 anni di storia insieme si inventò le prime liste civiche Lolli lo ricorderà era un trascinatore nel taglio basso D'Alfonso guerriero per i diritti Chiodi meritava il senato a vita e poi la pezzopane oppreso tanto da lui di incecco combattente vero Melilla politico per bene Razzi doveva andare al Quirinale pagina dedicata a Pescara vediamo un cadavere nelle reti dei pescatori praticamente irriconoscibile dai brandelli di vestiti si ipotizza che sia un marittimo al vaglio tutte le denunce di scomparsa esclusa dopo i primi esami l'appartenenza dei resti a Silvana Pica scomparsa a Pescara oltre 4 anni fa e dopo lo sgombero da etnico a centrale delle false griff il mercatino rovinato dalla criminalità il comune deciso offrire una sede alternativa alla parte regolare della comunità in nodo dei tempi ancora avanti all'interno mare buone notizie per la zona nord task force in campo dati negativi su via Galilei e via Balilla sversamenti a Fosso Vallelunga il prefetto Provolo più controlli ed ancora lo scontro urbanistico appartamenti al posto degli uffici un colpo allo sviluppo turistico in la tragedia ancora avanti sotto processo l'ex big di Banca e Truria Lorenzo Rosi tra gli imputati per il crollo dell'outlet village in cui morì una bambina la piccola rimase schiacciata ricordiamo da una statua ascoltata ieri i tecnici responsabili ascoltati ieri poi i tecnici responsabili del montaggio il flagello non aprite agli sconosciuti rubano anche i venditori veri i due foggiani presi dai carabinieri dopo il furto in casa di un anziano merito di un militare fuori servizio e l'incidente da brivido camion incastrato sotto il ponte perde scatole di rifiuti pericolosi l'Aquila bilancio scadenza ormai vicina comune ancora appeso a un filo la sottosegretaria De Micheli pronta a stanziare solo 12 milioni di euro in questo caso Cialente sarebbe pronto a far dimettere la propria maggioranza l'iniziativa la perdonanza nelle scuole successo del progetto e poi ancora l'addio a Iacovitti creò dal nulla campo felice la ricorrenza Ondina Valla oggi festeggia cent'anni per lei sito internet e pagina facebook il processo toccò una bambina condannato tre anni e mezzo al 68enne titolare di un negozio all'interno di un centro commerciale e poi lo scontro con Findustria e Ribelli si è aperto proficuo a confronto con i vertici Crabbe i primi stanziamenti ad Avezzano Summit ieri presso gli uffici della regione a Pescara con l'assessore Pepe presente il sindaco di Pangrazio il consorzio di ricerca non è più in liquidazione e ora si attende il mese di giugno per avviare il rilancio Sulmona Magneti Marelli sindacati divisi ma sciopero in massa sempre a Sulmona Masterplan si infiamma il dibattito politico Capistrello licenziamento ingiusto sarà risarcito il giudice del Tribunale del Lavoro ha disposto un risarcimento patrimoniale e morale Avezzano Bianchini Forza Italia contrario al doppio senso su Via Roma ed ancora pagina dedicata a Chieti la sanità in giallo per Flacco la difesa Bipartisan di Paolucci e Febbo resta al suo posto l'assessore regionale e il Big Azzurro si schierano con il manager della ASL attaccato da Olivieri e anche l'opportunità difende il direttore su situazioni ben più gravi Abruzzo Civico è rimasto in silenzio la crociata Don Gianluca non si tocca rivolta Villamagna per il vice parroco assemblea in sala consigliare cartelli e gruppi su Facebook contro la scelta della Curia la campagna guida sicura anche di Primio fa l'esame con gli scolari e c'è da fare Drupi con gli Opera seconda assunta Menna a Lanciano Bendotti vediamo noi a difesa dei più deboli verso il voto l'assessore uscente guida la lista Lanciano in comune per Pupillo vogliamo portare avanti i progetti in cantiere la città al centro della Frentania la priorità per D'Amico la Paolucci un tesoretto dalla fusione dei piccoli centri è a Ortona dal masterplan 53 milioni di investimenti per il porto San Salvo educatore condannato a tre anni per le violenze su una ragazzina vasto polvere sospetta paura alle poste alto vastese rubata una posca yen torna l'allarme furti nelle case Teramo Brucchi Ter un programma per convincere i gattiani questa sera il tavolo di confronto tra sindaco e forze di maggioranza scontro a colpi di veti incrociati per la composizione della giunta se il documento avrà argomenti condivisibili sarà approvato decidono i consiglieri dice Paolo Gatti Giulia Nova esito favorevole dei prelievi il mare sta migliorando ed ora passiamo torniamo scusate al centro per vedere l'interno dell'edizione dedicata a Pescara vediamo le prime pagine dedicate alle province appunto vediamo nella prima pagina dedicata a Pescara le nuove analisi quindi apre con il mare meno sporco i divieti si accorciano ma in via Valilla via Galilei e Fosso Valelunga dati ancora sfavorevoli nasce la task force contro gli scarichi abusivi uno scarico in tilt inquina il Fosso scoperto il malfunzionamento di una condotta fognaria il comune accusa l'ACA all'interno la prostituzione minorile dietro al blitz alla stazione Alessandrini rivela il retroscena dello sgombero dei senegalesi di mercoledì operazione inevitabile era stato segnalato anche lo spaccio di stupefacenti il cadavere di un uomo ripescato in mare finito nella rete dell'armatore Camplone a largo di Pescara forse un pescatore la morte risalirebbe a un anno fa e l'incidente sul lungo fiume camion incastrato nel sottopasso e poi ancora la petizione con 124 firme controllate il sansificio prosegue l'iniziativa dei residenti preoccupati per i fumi prodotti dall'azienda il nostro obiettivo è verificare le emissioni ma il titolare chiede una tregua ancora tumori arriva il robot che corregge il chirurgo ospedale già 30 interventi al colon in chirurgia generale con da Vinci la macchina opera con quattro bracci e consente una visione in 3D vediamo ancora in basso cibo e doping in AS fanno i docenti concluso il ciclo di incontri a scuola i carabinieri hanno incontrato 2000 ragazzi vediamo ancora la pagina dedicata a Montesilvano il contenzioso il comune rivuole 90.000 euro dall'ex dirigente Tara Borrelli la finanza invia una segnalazione all'amministrazione somme percepite indebitamente il caso finisce davanti alla Corte dei Conti sotto accusa gli incarichi extra svolti durante il mandato omicidio Pavone il giorno dell'appello Gagliardi condannato a 30 anni oggi davanti ai giudici di secondo grado dell'Aquila sono innocente e poi continua a dichiarare rubano l'auto a un disabile arrestati a spoltore due venditori porta a porta di Foggia annotati da un carabiniere fuori servizio che avverte i colleghi e li fa prendere pistola contro la cassiera colpo al Conad a scafa rapinatore solitario con un cappellino che copre gli occhi assalta il market e fugge a piedi con 3000 euro vediamo a Francavilla sul turismo scontro tra i quattro candidati verso il voto Francavilla Mantini serve più promozione della città Luciani invece siamo già invidiati e sempre a Francavilla Masci e Volta portano in scena il cenacolo Michettiano il progetto degli studenti a Francavilla l'operaio ucciso sull'autostrada mille lacrime per l'addio a Mirco a Manopello una folla commossa si è stretta attorno alla promessa sposa Fiorella e alla famiglia Barbarossa vediamo nel taglio basso a Penne sfida tra mountain bike per ricordare perrotti e poi ancora Penne un bando per la piscina scoperta il comune cerca associazioni e privati per tre mesi di gestione Chieti Sanità Asl flacco taglia i farmaci per 11 milioni circolare del manager a sei ospedali della provincia l'azienda spende troppo in medicina e la replica di cerulli poveri pazienti e poi la notizia rubati Porsche ventricina e olio nell'alto vastese nel taglio basso la tragedia sfiorata ad Ari la piccola di nove anni soccorsa dalla madre ha un trauma toracico non è grave bambina travolta dal cancello si è salvata l'aquila vediamo bimba molestata dall'amico di famiglia tre anni e mezzo di carcere cinque di interdizione dai pubblici uffici inflitti a un commerciante aquilano ed ancora a San Benedetto dei Marsi cavalli in fuga tra gli automobilisti come vediamo nella fotonotizia e sempre all'aquila addio al re di Campo Felice l'imprenditore Iacovitti è morto a Roma aveva 93 anni fu sindaco di Rocca di Cambio Mariangela forse è strangolata con un nastro borgorose il PM saieva a chi l'ha visto non è stato suicidio i segni sul collo sono inconfondibili ha dichiarato ed ora passiamo alla torniamo al messaggero per vedere a Bruzzo Sport quindi la pagina dedicata allo sport Pescara vincere e basta questo in apertura all'Adriatico si chiude la regular season contro il Latina che ha bisogno almeno di un punto per provare a salvarsi Oddo deciso non vogliamo dipendere dai risultati degli altri quindi prendiamoci tre punti e niente calcoli e appunto sulle dichiarazioni del tecnico vediamo appunto il contributo video e quindi la conferenza stampa di Massimo Oddo tre quattro giocatori a differenza della scorsa domenica sì un paio obbligatoriamente un altro paio perché perché c'è bisogno che giochino un po' affrontiamo una squadra che ha assoluto bisogno di vincere probabilmente anche il pareggio non basterebbe quindi deve vincere per forza non so come approccerà la partita non credo che faccia una partita all'arrebaggio anche perché penso che conoscerà le nostre qualità e cercherà di colpire nei momenti opportuni ma se la tiene l'acqua alla gola noi siamo con l'acqua alla testa dobbiamo presentarci così nel senso che noi pure abbiamo assoluto bisogno di vincere non ci interessa nulla di quello che succede sugli altri campi la nostra priorità il nostro obiettivo è vincere quindi scendiamo in campo per un unico risultato e per il resto non conta nulla a me personalmente dispiace tantissimo per Giorgio perché è un grande professionista con cui io mi trovavo certamente molto molto bene ha capito sin dal primo momento il mio modo di vivere il calcio e la sessione di mercato insieme a Pavone l'abbiamo fatta assieme l'abbiamo fatta direi alla luce dei risultati molto bene però purtroppo queste sono cose societarie che a me non competono te l'aspettavi che sono? no in questo momento no però io non non so a fondo cosa ci sia io posso dire solo che mi dispiace umanamente e in quanto professionista vabbè non mi risulta che la padulla sia andata a fare la trattativa la padulla è stata qui e si è allenato quindi non cambia nulla d'altronde sono sei mesi ormai che la padulla è sulla bocca di tutti ma gli incontri ci sono stati anche in passato vi posso garantire con altre squadre quindi non cambia assolutamente niente ed ancora Virtus Lanciano tutto in una notte i rossoneri costretti a vincere a Livorno se vogliono evitare la retrocessione diretta intanto la Lega ha rinviato i play out il calcio di Lega Pro l'Aquila Dio Bomber i tifosi licenziano San Domenico i gruppi organizzati hanno preteso dal club la partenza del giocatore Teramo Pea manca solo l'accordo economico e poi il calcio a 5 l'acqua e sapone si ferma in semifinale vince l'Asti sfuma il sogno Scudetto i nera azzurri cedono di misura 2 a 1 e con la pagina dedicata allo sport termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con mattino 6 torna domani mattina alle 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione Grazie a tutti